Ben trovati nell'angolo dello sport, domani mercoledì 16 di novembre ci sarà presso la sede della Fondazione Pescara Abruzzo la conferenza stampa di presentazione dell'anteprima del docufilm Acerbos Cup, quindi la Coppa Acerbo, e poi questo documento film sarà programmato venerdì 18 di novembre alle 21.30 presso il Cirma Massimo di Pescara e poi sarà la presentazione dell'evento Racing Show Pescara Fiera Expo di Auto in programma dal 18 al 20 di novembre presso il Palacongressi di Monte Silvano. Alla conferenza stampa interverranno il segretario generale della Fondazione Mattoscio, Antonio Di Loreto della Sovrintendenza Archivistica Abruzzo Molise, il presidente dell'ACI di Pescara Giampiero Sartorelli, il presidente dell'ODG dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo Stefano Pallotta, il sindaco di Colle Corvino Antonio Zaffiri e poi i rappresentanti dell'organizzazione del Racing Show e i piloti professionisti. Ricordo agli appassionati soprattutto delle moto che ci sarà la possibilità di vedere da vicino proprio la moto di Valentino, gli organizzatori consentiranno agli appassionati di farsi la foto vicino alla moto di Valentino Rossi ma anche alla moto di Dovizioso, la Ducati e naturalmente basterà pagare una piccolissima quota che andrà poi a beneficio della ricerca sul cancro. Le adessioni sono tante, molte le case automobilistiche e motociclistiche che hanno aderito, molti piloti e poi ci sono dei giornalisti piuttosto impegnati nel settore, tra questi Paolo Beltramo che faranno così, daranno le loro spiegazioni a tutti gli appassionati, saranno a disposizione dei frequentatori, dei visitatori. Si prevede quindi una manifestazione di grosso respiro, di grosso successo e sperando che il successo arrida anche al Pescara, parliamo un attimo di questo Pescara che si sta preparando, non ha saltato una giornata, quindi dopo la partita con l'Empoli il Pescara non ha avuto un minuto di riposo. Immaginate che anche oggi doppia seduta di allenamento, non si sono mai fermati i Biancazzurri per prepararsi al meglio per questa doppia trasferta che ci sarà tra sabato alle 21.30 con la Juve, la settimana successiva ci sarà la partita con la Roma, ma non basta perché dopo queste due trasferte micidiali ci sarà un incontro in casa contro il Cagliari, che potrebbe essere un diretto interessato al problema salvezza, ma dico potrebbe perché ha diversi punti in più rispetto a noi il Cagliari e poi ci sarà invece la trasferta sul campo del Crotone. La infermeria pare che si stia svuotando un pochino, infatti Crescenzi è abile a ruolabile e Muric la stessa cosa, qualche problemino perverre che però si spera di poter avere. Invece sono letteralmente fuori Coda, Gjomber, Baebec e lo stesso Mitrita. Si parla di mercato, si cominciano a fare gli elenchi, come solitamente accade alla vigia del mercato, tantissimi nomi che dovrebbero interessare il Pescara, tra questi Budimir della Sampdoria, Leone, il direttore sportivo è in Argentina per scoprire qualche altro elemento. Resce il fatto che il Pescara avrebbe bisogno di un attaccante, un centrocampista incontrista e un difensore centrale. Arriveranno? Se si vuole salvare devono arrivare, se non arriveranno il Pescara vuol dire che ha deciso anzitempo di prepararsi per il ritorno in Serie B. Un affettuoso abbraccio come sempre da Gianni Lussoso, un ringraziamento regista Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.